Musica Diminuiscono i contagi a Carboni a Porto Scuso e tornata Covid Free. La situazione è in evoluzione positiva sul tutto il territorio regionale, grazie all'accelerazione delle vaccinazioni. Stato di agitazione dei lavoratori ex ESAF è stato proclamato dall'UGL che ha preannunciato uno sciopero per denunciare lo stallo in cui versa la sentenza. L'assessore dei trasporti a Napoli incontra la Grimaldi. Al centro dell'incontro la strategia e lo sviluppo del sistema dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. Dal 7 al 10 ottobre torna il Carboni a Film Festival. Il direttore del centro servizi culturali della società umanitaria presenta l'appuntamento biennale con How to Film the World. Buon martedì 28 settembre 2021 a tutti i telespettatori di Canale 40 ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Migliora la situazione dei contagi da coronavirus a Carbonia. Sono scesi a 8 gli attualmente positivi, 2 ospedalizzati, 2 i cittadini in quarantena. Lo ha comunicato il sindaco Paola Massidda. Era da tempo che non si registravano numeri così bassi che fanno ben sperare per l'inizio di una stagione e di un inizio anno scolastico più sicuro, ha sottolineato Paola Massidda. Merito anche di un'efficace campagna vaccinale, grazie alla quale abbiamo vaccinato l'80,79% dei nostri concittadini. Solo nella giornata dell'Open Day dello scorso 19 settembre, che chiude la campagna vaccinale, sono stati ben 350 i cittadini che si sono vaccinati, ha aggiunto il sindaco. Grazie a tutti per l'alto senso di responsabilità dimostrato e la collaborazione paziente. Vi invito comunque a non abbassare la soglia di attenzioni, ha concluso il sindaco di Carbonia, e a rispettare le norme previste a livello nazionale. Buone notizie anche a Porto Scuso. Il comune è tornato covid free. Lo ha comunicato il sindaco Giorgio Alimonda, che ha sottolineato come, rispetto alla situazione precedente, i tre positivi si siano negativizzati e non vi siano oggi persone in quarantena obbligatoria. Il ringraziamento va a tutti coloro che hanno seguito ed ancora seguiranno le indicazioni e raccomandazioni relativi ai comportamenti da adottare, valide a maggior ragione alle porte della stagione autunnale, ha aggiunto Giorgio Alimonda. Ma soprattutto il ringraziamento va ai tantissimi cittadini che si sono vaccinati, portando la percentuale comunale dei vaccinati sui residenti all'83% dato ad oggi. E diamo uno sguardo al consueto aggiornamento regionale. Sono 21 i nuovi casi positivi al covid-19 su 1142 test, di cui 913 molecolari e 229 antigenici, eseguiti nelle ultime 24 ore in Sardegna, quindi con una percentuale dell'1,84%. I pazienti ricoverati di reparti di terapia intensiva sono 15, due in meno di domenica. Quelli in area medica sono 143, tre in meno rispetto al dato precedente. Sono 2.390 le persone in isolamento domiciliare, 74 in meno rispetto al giorno prima. Si registrano due decessi, un uomo di 63 anni residente nella provincia di Sassari ed un uomo di 82 residente nella città metropolitana di Cagliari. Cambiamo decisamente argomento, sarà l'assistenza all'anziano in ambito ospedaliero con un focus su particolari patologie che possono essere trattate all'interno e fuori dall'ospedale. Il tema centrale del convegno 1-9, giornata con il malato anziano in programma il primo, il 2 ottobre all'hotel Catalunia di Alghero. Una vera e propria occasione di scambio di esperienze e informazioni per medici e infermieri. Dopo quasi due anni segnati dalla pandemia da SARS-CoV-2 che sarà trattata anche durante il convegno. La due giorni algerese è organizzata dalla struttura complessa di lungo degenza dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari diretta dal dottor Antonio Uneddu. Cambiamo argomento, vediamo ora un servizio sul bando Includis del Plus di San Luri. Collaborazione e condivisione sono le parole d'ordine del piano locale unitario dei servizi alla persona Plus del distretto di San Luri che si è riunita nella sede dell'Unione dei Comuni della Marmilla a San Luri. Un incontro proficuo, hanno detto il presidente dell'Unione Marco Pisano e il suo vice Danilo Piras. Il confronto e lo scambio di idee ed opinioni aiuta a progettare ancora meglio, tenendo sempre ben chiaro l'obiettivo, il benessere e le necessità dei nostri cittadini. Confermato a breve il bando Includis per gli inserimenti sociolavorativi dei diversamente abili. Abbiamo fatto il punto sui servizi offerti dal Plus e i progetti in essere, ha sottolineato Benedetta Santilli, funzionaria del Plus, e abbiamo sottolineato l'importanza della gestione in forma associata dei servizi, come ci viene chiesto anche dalle direttive regionali e nazionali. Questa per noi rimane la strada futura da percorrere. E la volontà di tutti è quella di camminare insieme e collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni a favore delle nostre comunità e dei nostri cittadini. Il 30 settembre scadrà il termine per la presentazione delle domande del bonus matrimonio, il bando rivolto a tutte le coppie che sono sposate dal 1 gennaio al 30 giugno scorsi in uno dei comuni del distretto del Plus di San Luri e che potranno ottenere un contributo massimo di 4.000 euro per diversi servizi matrimoniali. Un bando, oltre ai 21 comuni del Plus, rivolto anche ad Arbus, Gornos Fanatica, Guspini, Pabillonis, San Gavino Morreale, San Luri, Sardara e Villa Citro. L'UGL ha proclamato lo stato di agitazione sindacale del comparto lavoratori ex ESAF in Abanoa e S.P.A. con il conseguente blocco degli straordinari e dei cambi di turno e preannuncia l'intenzione di indire uno sciopero per denunciare lo stato di stallo in cui versa l'avvertenza ex ESAF a Renatasi a causa del mancato rispetto degli accordi tra RAS e Abanoa S.P.A. Con la formale attivazione della preventiva procedura di raffreddamento e conciliazione delle controversie nei tempi di cui alla legge 146 del 90 e successive modifiche di integrazioni, l'UGL ha chiesto un incontro sindacale urgente da formalizzarsi nei prossimi giorni congiuntamente con il presidente e i componenti il consiglio di amministrazione della società Abanoa S.P.A. con l'assessore agli affari generali della RAS Valeria Satta e con l'assessore agli enti locali qui di Cosanna. Quest'ultimo detiene la delega per il controllo della società per comprendere quali siano le azioni che le parti interessate intendano mettere in campo al fine di superare l'attuale condizione di attesa e di nazione forzata. Bentornati in studio l'assessore regionale dei trasporti Giorgio Todde è oggi a Napoli per un incontro con i vertici della Compagnia Grimaldi. Nella sede centrale della Compagnia l'assessore ha incontrato Guido Grimaldi presidente della Grimaldi Sardegna. Nel corso dell'incontro sono stati trattati argomenti inerenti alla strategia e allo sviluppo del sistema dei collegamenti marittimi da e per la Sardegna. In tutti i collegamenti è emerso nel corso dell'incontro la Compagnia provvederà all'inserimento di navi nuovissime e di ultima generazione. La Regione ha detto Giorgio Todde sarà accanto alla Compagnia in questa sfida con la priorità di assicurare un nuovo corso alla mobilità dei sardi e garantire uno strategico strumento di collegamento per merci in entrate e in uscita dalla nostra isola. I carabinieri delle varie compagnie del territorio del Succis Iglesiente questa mattina hanno dato seguito ad una serie di controlli nei cantieri edili scelti a campione al fine di scongiurare eventuali irregolarità. I controlli che si sono svolti anche a Carbonia proseguiranno anche nei prossimi giorni ma al momento hanno fatto sapere gli stessi militari non sono emerse irregolarità di alcun genere sulle imprese edili sottoposte a verifica. Ed ora passiamo alla cronaca ieri pomeriggio a Muravera un Alfa Romeo 147 di proprietà di un 26enne di Ballao mentre si trovava in sosta è stata tamponata violentemente da un carroattrezzi di una società con sede legale in Cagliari condotto da un 42enne di Monserrato dipendente di quella ditta. A seguito dell'urto l'Alfa Romeo ha tamponato a sua volta una Fiat 500 di proprietà di una 67enne di Scalaplano. L'Alfa Romeo ha riportato gravi danni nella parte posteriore sinistra mentre la Fiat 500 ha subito la maccatura del fascione posteriore. L'autista del primo mezzo tamponato è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale San Marcellino di Muravera per accertamenti e cure. Le sue condizioni non sono comunque apparse essere gravi. I carabinieri della locale stazione inviati dalla centrale operativa della compagnia di San Vito hanno proceduto ai rilievi infortunistici relativi al sinistro. Ieri sera a Siurgus Donigala i carabinieri della stazione di Senurbi unitamente ai colleghi di Mandas sono intervenuti in via Flumendosa per un sinistro stradale senza feriti in quanto una Fiat Panda di proprietà di un 65enne allevatore del luogo condotta da un ventenne anche di Isiurgus Donigala disoccupato con a bordo un amico minorenne di 16 anni era andata a collidere contro il muro perimetrale del cortile di un'abitazione ed un palo dell'illuminazione pubblica. In seguito a tali fatti il conducente è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato poiché in sede di verbalizzazione del proprietario dell'auto questi ha dichiarato che quel veicolo era stato prelevato dal cortile di casa sua senza alcuna autorizzazione. Inoltre è emerso che l'autista era privo di patente poiché mai conseguita il mezzo dunque è stato rimosso e affidato al legittimo proprietario. Andiamo avanti dal 7 al 10 ottobre il Carbonia Film Festival torna con How to Film the World appuntamento biennale organizzato dal Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitalia. Saranno quattro giorni di grande cinema musica spettacolo e fotografia con un focus sui temi cardine del festival ovvero lavoro e migrazioni attraverso anteprime approfondimenti incontri e masterclass. Il programma è stato presentato ieri a Cagliari stamani abbiamo intervistato Paolo Serra direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitalia sentiamo. Paolo Serra siamo alla vigilia di una nuova rassegna cinematografica il primo elemento da considerare e la valutazione da fare è si ritorna a vivere? Sì sicuramente già lo scorso anno nonostante la pandemia siamo riusciti ad avere il festival in una soluzione ibrida ovvero in presenza grazie al pubblico che è intervenuto comunque al teatro centrale e alla fabbrica del cinema ma soprattutto online sfruttando naturalmente le potenzialità della piattaforma quest'anno l'auspicio è quello di poter godere e noi speriamo che il governo si esprimi in tal senso di un maggior numero di posti a sedere all'interno del cineteatro centrale e quindi anche all'interno della sala Fabio Masala della fabbrica del cinema per poter ospitare il pubblico in presenza e riappropriarci di quel gusto di stare insieme poter vivere commentare insieme quelle che saranno le ricchissime giornate di questa quattro giorni che caratterizza la terza edizione di Carbonia Film Festival presenta How to Find the World ecco quattro giornate il primo appuntamento allora da giovedì 7 fino a domenica 10 veramente quattro giornate intensissime naturalmente trattandosi di una manifestazione incentrata sul cinema tanto tanto cinema con alcuni nomi di assoluto prestigio pensiamo soltanto ad Alexander Nanau candidato in ben due categorie agli ultimi Oscar americani con il suo pluripremiato collective però ci sarà anche Federica Di Giacomo recente partecipante con Il Palazzo il film che proietteremo una sorta di grande freddo rivisitato lei che è regista antropologa che getta il suo sguardo acuto attento ma scevro di giudizi su quelle che sono come dire le periferie della realtà lo ricordiamo d'altronde noi con questa manifestazione ci occupiamo ovviamente di cinema del reale così come di cinema del reale si occupa California altro film di straordinario interesse i registi già autori di Butterfly una storia di osservazione e di crescita di Irma Testa la prima donna che partecipò ad un'Olimpiade ma parliamo di Rio de Janeiro Irma Testa in realtà ha partecipato anche a Tokyo vincendo la medaglia di bronzo in questo caso con California un romanzo di crescita e di ricerca del proprio posto nel mondo ci sarà anche però cinema d'animazione con Sarrundini dei assolutamente carbonienzi Daniele Arca e Leonora Gambula il film di Anca Damian La mia fantastica vita da cane che sarà introdotto da Sara Mazzetti che così come l'anno scorso anche quest'anno è splendida protagonista autrice del manifesto della rassegna ma sarà anche presente per tenere una masterclass con una delle scuole coinvolte nel territorio in realtà della città di Carbonia il CFF Scuole che vedrà protagonisti gli studenti dell'istituto di istruzione superiore Angioi e del liceo Clamci Amaldi di Carbonia perché d'altronde How to find the world è molto formazione incontri ci saranno i ragazzi del Carbonia cinema giovani ovvero dieci ragazzi che intervengono così insomma tantissimi momenti musica realtà virtuale mostre straordinarie a sguardi plurali dell'Italia plurale che vi invitiamo a venire a vedere al piano superiore della biblioteca comunale insomma veramente tanto tanto per questa terza edizione di How to find the world ed ora per gli eventi è tutto pronto a Lula per i festeggiamenti in onore di San Francesco si inizia venerdì primo ottobre alle 19 in piazza Sauntana con Buon compleanno Grazia spettacolo per i 150 anni dalla nascita della scrittrice premio Nobel Grazia Deledda seguirà l'esibizione del gruppo della Scuola Civica di Musica il 2 alle 20 e 30 spazio e canti a chitarra con Emanuele Bazzoni Franco Dessena e Daniele Giallara accompagnati da Bruno Maludrotto alla chitarra e Claudio Dessena alla fisarmonica domenica 3 alle 20 e 30 in piazza Sauntana il gruppo Karma in concerto i 4 alle 19 e 30 in programma la gara di poesia estemporanea con Giuseppe Porco e Bruno Agus accompagnati dal tenore Montalbo il 9 alle 18 la biblioteca comunale ospiterà la premiazione del concorso di poesia Luva Latticanto a scuola per mare inclusione ironia buona musica giovedì 30 settembre a Sorso vediamo il servizio sarà una serata l'insegna dell'amicizia della fiducia della condivisione quella che si terrà giovedì 30 settembre a Sorso nell'ambito del progetto a scuola per mare selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile con il patrocinio del comune in piazza Garibaldi i ladri di carrozzelle si esibilanno alle 10.30 in un live riservato alle scuole del territorio mentre alle 20.30 inizierà il concerto aperto a tutta la popolazione alla giornata parteciperanno anche i sette ragazzi che stanno prendendo parte all'esperienza degli 85 giorni di navigazione a bordo di una barca a vela che si trasforma in casa scuola e palestra educativa l'amministrazione comunale di Sorso ha accolto con interesse il progetto a scuola per mare e ha aderito all'iniziativa di sensibilizzazione promozione e di linee di intervento che si rivolge a tutta la nostra comunità con uno sguardo particolare ai nostri giovani e giovanissimi ha sottolineato l'assessore della cultura e istruzione Marcella Spanu in un momento così complesso una delle prime azioni proposte il concerto del gruppo Ladri di carrozzelle vuole dare risalto le tematiche delle pari opportunità della valorizzazione dei talenti e delle diversità dell'integrazione abbiamo coinvolto la scuola le forze dell'ordine del territorio le associazioni sportive sociali e culturali perché riteniamo che solo unendo gli intenti e lavorando insieme sia possibile agire al meglio per il bene comune si apre con gli eventi la terza parte del nostro TG alla Fiera del Libro 2021 quando siete felici fateci caso sabato 2 ottobre alle ore 15 e 30 al Teatro Electra di Iglesias si terrà l'incontro giornalismo d'inchiesta oggi l'evento vedrà la partecipazione di Stefano Lamorgese giornalista a Rai News e redazione di Report e vicepresidente dell'associazione Amici di Roberto Morrione di Mariangela Pira giornalista di Sky TG24 e di Matteo Giusti giornalista di Limes quest'ultimo è in particolare autore della pubblicazione L'omicidio Attanasio Castelvecchi Edizioni libro inchiesta sulla morte dell'ambasciatore italiano in Congo sarà in questa occasione di centrale importanza al ricordo del carabiniere Vittorio Iacovacci già parte della scuola Lievi Carabinieri di Iglesias barbaramente ucciso nell'atto di difendere l'ambasciatore Luca Attanasio all'evento parteciperà una rappresentanza della caserma Lievi Carabinieri di Iglesias oltre che delle principali associazioni cittadine un viaggio all'insegna della danza contemporanea che si dividerà tra la terrazza Umberto I del bastione di San Remy il teatro Massimo il giardino sotto le mura e le vie dello shopping nel centro storico di Cagliari sarà questo il programma di Find 39 evento di danza contemporanea che sarà per la 39esima volta il tema portante del cartellone del festival internazionale nuova danza proposto dagli organizzatori della società cooperativa Maya per la città di Cagliari Find 39 rappresenta un'occasione di svago per il pubblico che potrà mirare prestigiose firme della danza internazionale ma anche una vetrina per giovani artisti che potranno anche partecipare a numerose masterclass ha dichiarato l'assessora della cultura Maria Dolores Picciao dopo il restyling della sede sociale l'avvio in estate di alcuni corsi didattici e la partecipazione al progetto Riscriviamo il futuro finanziato da Save the Children e gestito da WISP Sardegna PS in collaborazione anche con il comitato territoriale WISP di Cagliari i dirigenti della WISP del Sud Sardegna rilanciano altre nuove iniziative tra cui il Carbonia Sports Festival in collaborazione con l'assessorato dello sport del comune di Carbonia per il prossimo 3 ottobre negli impianti di via Balilla a Carbonia WISP Cagliari APS e la delegazione sui Cisiglesiente hanno organizzato la manifestazione Carbonia Sport Festival per promuovere lo sport attraverso la sensibilizzazione per una cultura sociale basata sul rispetto della libertà individuale e collettiva verranno coinvolte diverse associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio con i loro associati bambini e adulti anche con disabilità a cimentarsi in diverse discipline gli impianti sportivi impegnati saranno il campo di calcio a 5 campo polivalente pala hockey pista patinaggio campi da tennis tc carbonia campo di calcio e pista si chiude qui con lo sport il nostro telegiornale odierno vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani grazie per essere stati con noi e per l'attenzione io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon proseguimento arrivederci grazie a tutti